Bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti alla presentazione del rapporto Censi-Sbyer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani. Devo dire, lo presento io facendo una battuta quando parlo con i mentor Lucotori, dico abbiamo fatto il nuovo rapporto Kinsey nazionale. Insomma, la verità è che erano una ventina d'anni che non si faceva una ricerca così a largo spettro, così ampia per misurare i cambiamenti nei costumi, nelle abitudini sessuali degli italiani. Quindi innanzitutto ringrazio Bayer Italia che ci ha consentito di realizzare questo rapporto e ringrazio da subito gli ospiti che sono con me qui al tavolo, che ci aiuteranno con i loro punti di vista e le loro competenze e professionalità a commentare i risultati. Allora darei subito però la parola a Francesco Maglietta che è responsabile dell'area politica e sociale del Censi per una relazione introduttiva che ci fa conoscere i principali risultati che sono emersi da questa ricerca. Prego Maglietta. Grazie, buongiorno a tutti. Rapporto Censis-Bayer sui comportamenti sessuali. 20 anni fa al Censis realizzammo una ricerca sui comportamenti sessuali degli italiani. 20 anni sono un tempo molto lungo, ciascuno di noi guardando indietro la propria vita, quella dei propri cari, può percepire la dimensione del cambiamento che abbiamo avuto in questi 20 anni. 20 anni fa non avevamo l'euro, non c'era lo smartphone, non c'erano i social. In questi 20 anni ci sono stati tanti eventi rilevanti, tanti eventi ad alto impatto di cambiamento. Cito solo la grande crisi del 2008 che ha cambiato definitivamente gli stili di vita e i modelli di consumo. Cito anche e vedrete quanto sarà importante l'irruzione del digital in ogni ambito della nostra vita professionale, personale, relazionale. Questa ricerca si è focalizzata sulle persone con età compresa tra 18 e 40 anni. Sono 15 milioni e 500 mila persone, 3 milioni in meno di quante erano nel 2000, ma è una componente decisiva della nostra vita collettiva, della nostra comunità. Perché i comportamenti sessuali? Beh, noi siamo abituati a leggere il cambiamento spesso sulle tematiche di tipo sociopolitico, di tipo istituzionale. Il census da oltre 60 anni racconta come cambia la vita degli italiani, racconta come cambia la società italiana a partire dai tanti ambiti della nostra vita e quello dei comportamenti sessuali, dell'immaginario collettivo legato alla sessualità è uno degli ambiti più efficaci per raccontare poi come concretamente sta cambiando la nostra vita, come concretamente è cambiata appunto negli ultimi 20 anni. Io vi proporrò sostanzialmente quattro fotografie legate tra loro che saranno il racconto del cambiamento con alcune scene della realtà contemporanea, con alcune scene relative appunto alla sessualità dei 18 e 40 anni nel nostro tempo. Partiamo con un primo aspetto. Considerate che nell'arena mediatica, nell'arena pubblica, una delle retoriche più diffuse che i millennials fanno meno sesso delle generazioni precedenti o addirittura non fanno sesso. In questa ricerca a noi emergono risultati che come vedrete sono, confermano solo in parte questa affermazione. Primo punto, è vero che si è ampliata l'area del no sex, cioè persone che non hanno un'attività sessuale. Era intorno al 5% e diventata più del 10%. Tra i maschi si è passati da circa il 3% a quasi il 12%. Un milione e 600 mila persone oggi, un milione di persone nel 2000. Ci sono 220 mila coppie, persone che vivono insieme ma che non hanno rapporti sessuali. Quindi, indubbiamente, l'area delle persone che non fanno sesso si è ampliata. Però i dati dicono, e i risultati di questa ricerca lo confermano, che coloro che fanno sesso ne fanno di più con maggior frequenza rispetto ai coetanei di 20 anni fa. Coloro che hanno, fanno sesso, almeno 2-3 volte a settimana, vedete, erano circa il 37% nel 2000, sono il 44,1% oggi. Quindi la frequenza di coloro che lo fanno è aumentata. Soprattutto, vedete, il 48% dice, penso che sia la quantità giusta, il sesso che faccio lo reputo adeguato. Poi c'è un'altra quota, più o meno simile, che ritiene, ne vorrebbe fare di più. Una piccola quota dice, ne vorrei fare di meno. Ma il dato essenziale è che il 79%, più del 79%, è molto abbastanza soddisfatto della propria vita sessuale. Ed è più soddisfatto della propria vita sessuale di quanto sia della propria vita in generale. Quindi la sessualità partecipa, è una componente importante, di quella felicità quotidiana, di quella micro felicità, di quella qualità quotidiana della vita, oggi così importante, in una società che viene percepita come ostile, una società rancorosa, una società dell'incattivimento, come il census, stiamo raccontando da alcuni anni nel nostro rapporto sociale. Quindi questa è la prima fotografia di confronto, di cambiamento rispetto a 20 anni fa. Scene della nuova sessualità, cioè entriamo più nel merito dei comportamenti dell'immaginario sessuale, dei 18-40 anni del nostro tempo. Primo punto, più partner nella vita. Questi dati sono relativi alle donne. 20 anni fa il 50% delle donne tra 18 e 40 anni aveva avuto un solo partner. Oggi il 39,6%. È aumentata la quota che ha avuto da 2 a 5 partner, dal 37 al 44%, ed è aumentata quella che dichiara di aver avuto almeno 6 partner. Vedete? Dal 12,7 al 15,8. Per i maschi c'è questo incremento del numero di partner che viene confermato, anche se immediatamente i maschi dichiarano di aver avuto un numero di partner maggiore rispetto alle donne. Però il dato fondamentale è che nella vita si hanno più partner. Probabilmente gioca il meccanismo del dating, la maggiore l'abbassarsi delle barriere che va dalla conoscenza, dall'incontro, appunto all'avere rapporti sessuali. L'altro elemento di cambiamento lo abbiamo definito l'ubriacatura delle opportunità. Quando le persone hanno rapporti sessuali non coincidono necessariamente con rapporti completi. Addirittura il 48% di coloro che fa sesso almeno 2 o 3 volte a settimana in realtà non ha rapporti completi. Ha un insieme di pratiche. La figura 1 che trovate nella sintesi, a pagina 4, è un elenco molto articolato di pratiche che sono o alternative o di affiancamento al rapporto sessuale completo. Sesso orale, masturbazione reciproca, senza penetrazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un'estrema articolazione di pratiche, di attività che sono addirittura o sostitutive o di affiancamento al rapporto sessuale completo. E in questo elemento della estrema articolazione delle pratiche gioca un ruolo fondamentale il rapporto con il porno. Vedete, i numeri sono abbastanza impressivi. Il 61% dice guardo porno da solo, il 25% con il partner, il 31% riceve immagini porno da una persona specifica, il 25% invia immagini porno ad altre persone, il 38% di chi vive in coppia fa sexting. Esiste una sorta di quotidianità del rapporto del porno che è sdoganato innanzitutto nel dirlo. 20 anni fa in realtà questa dimensione sostanzialmente non era emersa. Oggi il porno non è più una cosa da maschi, ma è una cosa da uomini e da donne. Non è una cosa solo per singolo, ma è una cosa presente all'interno del rapporto di coppia, anche di coppie consolidate, di coppie che vivono insieme. Non è più qualcosa di disdicevole, qualcosa da non raccontare. Non è più semplicemente, diciamo, il rito di iniziazione di giovani maschi come è stato per le generazioni precedenti. Quindi questo è un quadro di alcuni degli aspetti che caratterizzano la sessualità dei 18-40 anni del nostro tempo. Terza fotografia, ma quali idee si hanno? Quali sono le idee chiave che ci consentono di capire il senso di questa sessualità più frequente, più variata e diciamo con caratteristiche molto diverse dal passato? Beh, considerate che nel 2000 il 37% delle donne diceva sesso e amore sono separabili. Oggi la quota è salita al 77,4%. Tra gli uomini era il 61%, oggi è quasi l'82%. Allora la sessualità è legata fondamentalmente al piacere, legata anche all'amore ma fondamentalmente al piacere è vista come uno strumento di ricerca del piacere individuale o della complicità con le persone con cui entriamo in relazione. La sessualità non è legata direttamente in modo, diciamo, stretto come era in passato all'amore ma chiama in causa la dimensione molto soggettiva della ricerca del piacere e quando si è in relazione chiama in causa la dimensione della complicità che probabilmente è un aspetto poco considerato e che invece è fondamentale anche per capire il senso che viene attribuito nelle coppie a quella molteplicità di pratiche che sono state indicate, non ultime quelle di rapporto con il porno. Come vedete c'è un'articolazione estrema, c'è una variazione estrema dei comportamenti e il rapporto con la contraccezione, tenuto conto che storicamente la contraccezione, quella femminile in particolare, è stato uno dei meccanismi fondamentali di creazione di una sessualità consapevole, di una sessualità anche di autorealizzazione individuale, di una sessualità che non fosse solo strumento per la riproduzione. Oggi c'è un cambiamento importante, la contraccezione ha difficoltà a trovare un ruolo che ne confermi l'aspetto più positivo, che è anche un garante della buona sessualità e della tutela della salute della donna in primo luogo. Vedete il 63% dei 18 quarantenni negli ultimi anni è capitato di avere rapporti sessuali non protetti e ha scelto di prendere il rischio di rapporti sessuali non protetti. Per quale motivo? Vedete, prima ragione, non lo avevo a disposizione in quel momento e quindi non volevo perdere l'occasione di ottenere l'agoniato piacere, il piacere che è l'obiettivo primario dei rapporti sessuali. Il 18% ti dice no, ho deciso consapevolmente di prendere il rischio, che è un altro aspetto anche tipico delle attuali generazioni, cioè l'idea mi prendo questo rischio perché comunque il beneficio che sto cercando dal mio punto di vista è più importante. E poi soprattutto da un punto di vista delle idee sulla contraccezione, vedete, le donne dicono è una seccatura e soprattutto mi fa sentire limitata e questo aspetto della contraccezione come un limite, come un vincolo rispetto a una sessualità molto soggettiva, molto articolata, in cui si esercita una libera scelta, questo aspetto torna anche negli uomini. Ecco, in questa sessualità che va a cercarsi le strade di sperimentazione, strade di nuove pratiche, la contraccezione troppo spesso viene vista come un vincolo, come un limite. C'è da dire, peraltro, che in realtà il grado di informazione sulla contraccezione non è poi così basso. Profilattici e pillole sono contraccettivi conosciuti, oggi c'è una certa conoscenza, non così approfondita, ma c'è una certa conoscenza di quali siano le implicazioni per la salute, quindi in generale è evidente che il modo in cui la contraccezione è stata percepita nelle generazioni precedenti, oggi è in difficoltà rispetto ad una sessualità e vado a concludere, di cui vi riassumo gli aspetti essenziali che noi abbiamo letto come fenomeni, come processi sociali e che naturalmente poi nella discussione di questa giornata saranno analizzati da diversi punti di vista. Beh, 18 quarantenni, più gente che non fa sesso, ma chi fa sesso ne fa di più dei coetani delle generazioni precedenti, più trasgressione più trasgressori, cioè c'è una moltiplicazione di pratiche sessuali che sostituiscono o affiancano i rapporti completi e in alcuni casi funzionano tra virgolette come degli anticoncezionali naturali. È una sessualità decomplessata in cui appunto anche il rapporto con il porno viene giocato rispetto alla ricerca del piacere e rispetto anche ad una complicità relazionale tra le persone. La dimensione della complicità conta di più di quella dell'amore perché è legato al raggiungimento del piacere che è l'obiettivo primario condiviso. Come detto, sesso finalizzato al piacere in primis, meno contraccezione e più rischi. Ed ecco, diciamo, il lato scuro di questo sviluppo che abbiamo descritto, di questa evoluzione che abbiamo descritto. Naturalmente è questo un po' il tema chiave intorno al quale ruota la riflessione per il futuro. Per il resto siamo, e chiudo, di fronte a una sessualità di una società dove la soggettività è dispiegata e dove quel che noi viviamo nel nostro intimo, quel che noi viviamo nel nostro sistema di relazioni conta molto di più che in passato perché in questi anni percepiamo questa società come ostile e comunque segnata da un clima di rancore che non ci piace e la buona qualità della vita per ora resta un antitolo anche, come avete visto, in ambito sessuale piuttosto efficace. Grazie. Bene, grazie Francesco Maglietta. Come avete ascoltato ci sono tanti dati, tanti dati che toccano le varie dimensioni del fenomeno e soprattutto che si giovano anche di un confronto con quella che era la fotografia di venti anni fa. I cambiamenti sono tanti. Allora, comincio a discuterne con Paolo Crepe, psichiatra e sociologo, non ha bisogno di presentazioni, le ho conosciute tutti, che peraltro lo scorso anno ha pubblicato un libro con Mondatori che si intitolava Passioni. Allora, comincio con lui dicendo abbiamo ascoltato oggi il primo driver dei comportamenti sessuali è la ricerca soggettiva del piacere. Il primo concetto che viene, il primo attributo che viene associato al sesso è piacere, poi amore, poi passione. C'è questa forte ricerca soggettiva della sessualità, c'è questo esercizio di una sovranità individuale anche nella relazione di coppia che passa molto per il porno online con la facilità, naturalmente, e la gratuità dell'accesso se il 25% delle coppie fanno sesso anche guardando video porno. Allora, si sposta più in là la frontiera della trasgressione, in qualche modo la trasgressione è istituzionalizzata, si moltiplicano le pratiche sessuali, si fa più sesso in maniera più frequente, con più partner, c'è un ruolo in qualche modo anche egemonico dal punto di vista dell'iconografia del porno online, che quindi condiziona i comportamenti, i canoni estetici addirittura. E la passione che fine fa? Se, come abbiamo letto nel suo libro, ha un ruolo invece, le passioni hanno un ruolo così fondamentale, poi nel pieno dispiegamento delle individualità e delle relazioni in un contesto sociale. Prego, crepe. Innanzitutto grazie. C'è un primo dato che noi che facciamo questo mestiere, conosciamo, è che voi non avete potuto analizzare che è il dato che riguarda i minori dei 18 anni. Perché non si può fare un'analisi nazionale, ma nella nostra pratica clinica questo è un dato più che evidente. C'è un'anticipazione della sessualità negli ultimi anni assolutamente fortissima e determinata, soprattutto tra le giovanissime femmine. sto parlando di 13 anni, tanto per darci un'idea. Quindi quello che voi state studiando è il sesso cinque anni dopo. e questo fa capire tante cose. Nel senso che se hai già cinque anni di pratica è chiaro che ti sei stufato del sesso inteso in maniera canonica. Cerchi qualche cosa di più perché è evidente che sia disgiunto da una certa visione romantica dell'amore, eccetera, eccetera. Questo è solo un dato positivo nel senso che finalmente non siamo più ipocriti. Abbiamo meno paura a dire ciò che da che mondo è mondo. È che il sesso non è necessariamente amore ma questo credo che lo pensasse anche Petrarca solo che non l'ha detto perché non era carino dirlo. Non lo diceva neanche mia mamma ma lo pensava anche lei quindi adesso finalmente abbiamo il coraggio di dire è vero la sessualità è più vicina alla genitalità che all'amore. ma questo non lo trovo una cosa né sconvolgente né forse qualcuno si 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 meraviglia di tutto questo io certo io certo no che la rete non solo il porno via video ma la rete la rete ha cambiato le attività sessuali in una maniera spaventosa io sono stato chiamato in una scuola media romana recentemente mi hanno fatto 40 domande sul sesso scritte io pensavo che le avesse scritte gli insegnanti ho guardato poi finalmente chi erano erano delle lolite totalmente lolite in tutti i sensi caratteri sessuali secondari comportamento ammettamento ammettamento tutto quello che va dietro a questo questo è una cosa che noi abbiamo voluto non è che è una tegola che è venuta chissà non è una roba che ci ha venduto Cupertino California no è un atteggiamento culturale che noi abbiamo voluto tant'è vero che siamo noi genitori che portiamo i figli a 13 anni in discoteca e se poi qualcuno pensa che in discoteca si diano i bacetti sulle guance e bevano latte latte caldo continuate a pensarlo non funziona così dentro i bagni delle discoteche inizia il sesso per molti secondo c'è una totale mancanza di regole familiari scolastiche eccetera eccetera che questo ha portato a far sì che la prima vera curiosità che nasce con la preadolescenza abbia una possibilità un timing io quando ero ragazzino io trovare uno che avesse la casa libera dove girare tutta la città adesso sono tutte case libere tutti i genitori vanno al mare o montagna lasciano i preadolescenti stanze eletti in abbondanza e cosa volete che succeda succede questo ma questo non è il problema il problema è capire qual è la ricaduta di tutto questo allora in parte la spiego con quel dato interessantissimo secondo me della gente che non fa più sesso io commenterei finalmente se ne poteva più siamo stati bombardati dal sesso in tutti i modi possibili immaginabili tu prendi una strada di Milano e c'è un signore in mutande sei metri per tre non fotografato nella sua faccia ma fotografato nel suo inguine se mia mamma tornasse su questa terra direbbe accidenti però come siete andati avanti quindi pur di vendere un slip si vende la sessualità perché quella è sessualità devo entrare più nello specifico penso di noi siamo tutti grandi questo vale per gli uomini vale per le donne vale molto per gli uomini e quindi è un ammiccamento alle femmine se tu vedi Beckham nei suoi attributi sessuali e non nelle sue capacità di giocatore di calcio è perché ci sono tante ragazze che e questo se voi io ho lavorato con alcune aziende di intimo molto importanti questa è la prima cosa che ti dicono sono le ragazze che regalano le mutande ai ragazzi questo è un grandissimo parte del mercato nulla di scandaloso evidentemente però è così è perché sono state indotte io non ho memoria di ragazzi che mi hanno comprato mutande ai miei ai tempi del liceo sarebbe stata una cosa veramente bizzarra se non per quelle rosse per Capodanno ma forse che adesso ci sia il dettaglio anche anatomico evidentemente fa parte di un mercato è un mercato esattamente come il sexting il sexting è un mercato non è un atteggiamento culturale dietro al sexting ci sono tutte le più grandi compagnie di produzione di telefonini perché scusate faccio una domanda ma un telefonino che avesse una brutta telecamera è un bruttissimo schermo funzionerebbe per il sexting è ovvio che no perché funzioni il sexting ovvero scambio di fotografie intime all'età di 13 14 anni io di questo sto parlando perché due signori di 40 anni fanno quello che vogliono ma francamente adesso non mi pare neanche tempo da perdere mi interessa come fenomeno quello della 13 anni 14 anni 15 anni allora quella cosa lì è legata alla tecnologia guarda caso eh l'upgrading tecnologico è tutto sulle telecamere perché i telefonini più che quello cosa vorrete che sia di rombo come volete che lo facciano tondo no lo fanno così e come e come implementano il nuovo iphone che sarà presentato il prossimo a settembre avrà tre telecamere e questo perché perché c'è la possibilità di una tridimensionalità naturalmente questo legato ad uno schermo iper quattro forse arriveremo a cinque eccetera eccetera questo comporta il selfie il selfie in pizzeria sì certo che c'è quello ma una gran parte eh sottotraccia dell'uso di questa cosa qua è fatto proprio per questioni come dire intime in un certo sociali poi certo che c'è la fotografia della comunione della laurea della nonna che ha fatto cent'anni e gli fai l'istantanea ma questo è uno poi ce ne sono ottanta eh di ragazzi guarda come sto guarda come guarda come 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 sono bella eccetera eccetera questo è un'implementazione che viene da un mercato non chiamiamo la cultura per favore perché è cultura indotta dal mercato se non ci fosse il mercato non ci sarebbe questa cultura è semplicissimo dove vuole andare questo mercato non lo so adesso ci sono un po' qualche problemino mi pare in giro con one way non lo so che cosa accadrà ma questo non c'entra niente con le pulsioni che io vedo mamme che mi portano fototelefonini delle figlie e me li fanno vedere non è che me ne sto immaginando me le le vedo guardo e basta poi dopo di che me ne sto zitto perché non sono certo io il genitore mi chiedete fossi io il genitore di una tredicenne che manda fotografie in giro beh insomma qualcosa qualche domandina a me stesso me la farei quindi che ci sia a riassumendo disinvoltura benissimo pari opportunità nel nel godere di questo di questo mondo che noi chiamiamo sessualità benissimo non vedo perché i ragazzi potevano avere e ancora adesso c'è un dettaglio un po' così da maschilista per cui i ragazzi possono avere 25 fidanzate le ragazze al massimo 5 questo mi pare una roba a non è vera a non è vero affatto le ragazze hanno tanti ragazzi quanti anzi oggi molto di più sono le ragazze che a 15 16 anni hanno un'attività sessuale completa totale disinibita e si rivolgono ad una platea di maschi molto variegata comprese persone che abbiano il triplo della loro età eh lo scandalo di Parioli è solo una punta dell'iceberg eh per una cinta di dolce gabbana si fa questo ed altro tanto per essere chiari eh e non chiamate la prostituzione ma è un baratto puro e semplice baratto che c'è sempre stato poi la prostituzione è un'altra però è un baratto io ti do questo tu mi dai quell'altro fine perché perché nella loro testa non c'è la prostituzione io ne parlai 25 anni fa in un mio vecchio libro avendo incontrato tre ragazzine molto minorenni a Mestre che sì quelle sì si prostituivano sui viali ed erano di buona famiglia di Vicenza ottima famiglia di Vicenza alla domanda perché fai questo mestiere che oltre a tutto è anche molto pericoloso la domanda e la risposta è perché mi voglio comprare il vestito che mia mamma non mi compra punto fine quindi siccome lei non me lo compra io me lo compro in un altro modo eh questo è una cosa diffusissima diffusissima sarebbe ecco una cosa che mi piacerebbe poter suggerire al Censis e la prossima volta solo che è molto complicato perché ci vogliono i permessi sono minorenni eccetera eccetera è quello di focalizzarsi sulla sulla sessualità nell'adolescenza perché questo è un fenomeno nuovo e interessante che poi anche lì le coppie le coppie basterebbe vedere il numero delle separazioni il numero separazioni oggi avviene moltissimo per causa tecnologica questo qualsiasi avvocato matrimonialista sa quanto materiale viene depositato sulla sua scrivania eh ho beccato mio marito che 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 chatta con questo che chatta con quell'altra ecco le foto la biondina eccola qua 23 anni eh quindi tutto questo più che sufficiente per dire bye bye dopodiché magari la signora dopo dopo dieci minuti chatta con magari una persona molto più giovane di lei come ecco anche questo scambio mi pare interessante io non sono un prete quindi non vedo queste cose con uno spirito moralistico eh c'è una un un enorme un enorme attrazione per esempio nei confronti del del vecchio giovane e questo non è solo il solito vecchio marpione che con un po' di soldi si abbindola la ragazzina ma è anche la signora di una certa età che c'ha il il toy boy come è noto eh ci sono anche delle signore molto note che lo esibiscono quindi questo apre una cultura è chiaro che se una ragazza vede eh questo capisce che questo è tollerato se lo fa la la una grande attrice francese perché non lo devo fare io dov'è il limite e loro lo possono fare noi no tutto quello che avviene sulla croissette di canna è sdoganato eh so se è chiaro eh è ovvio e siccome questa cosa qua avviene questo è il problema la reiterazione perché una scena osè in televisione dovevi capitare proprio lì se no te la perdevi eh se andavi a prenderti un goccio d'acqua in cucina ti hai riperso la scena osè adesso è moltiplicato per miliardi uno secondo non è eh assolutamente cancellabile questa è una cosa su cui mi permetterei eh di dire che genitori almeno questo almeno questo dirlo anche a scuola almeno questo dirlo ai ragazzi sarebbe anche cosa buona e giusta quella fotografia che ti sei fatta col tuo ex rimane forever perché la tecnologia non si scorda nulla non pensate che la Apple abbia crisi di coscienza e sensi di colpa non gliene anzi anzi sa benissimo che vende queste cose proprio perché sono immortali perché quella fotografia rimane per decenni chi la ma anche da morti ci sarà una nostra fotografia in un certo modo questo è un problema secondo me sì di libertà personale secondo me sì ma siccome siamo succubi genuflessi di fronte alle grandi aziende che fatturano di più al mondo le quattro aziende che fatturano di più sono tutte aziende che parlano di questa cosa qua figuratevi voi se quelli sono così autoelisionisti da dire sì effettivamente Cook l'ha detto il CEO di Apple ha detto se avessi saputo che il telefonino veniva usato in questo modo avremmo pensato a cose diverse ci prendono pure per i fondelli perché adesso si inventa un nuovo telefonino poi ogni tanto fanno sti showdown che qualche giornalista prende e prende per buono ma figuratevi se Cook si dà la zappa sui piedi dicendo oddio bisogna che i ragazzi non usino il telefonino per queste cose bisognerebbe solo per fare la ricerca di greco almeno essere anche presi in giro da questi signori di Cupertino California francamente visto che siamo in una bellissima sala quando questa è stata affrescata Cupertino California non c'erano neanche gli scorpioni allora noi che siamo civiltà potremmo ogni tanto far sentire la nostra voce visto che siamo stati la civiltà del mondo e che adesso prendiamo appunti da qualcuno che è nato due giorni fa francamente mi pare un po' strano che questo finisco abbia qualche conseguenza mi sembrerebbe il minimo non parliamo di passioni per favore non offendiamo parole sacre qui di passione non c'è nulla dicasi nulla stiamo parlando di genitalità punto scusate lo so che non è elegante ma di questo si tratta di sentimenti qui anche pochi un altro giorno una ragazza che veniva da me mi ha detto io faccio l'amore come prendere una bottiglia di coca cola dal frigo punto e mi ha guardato dicendo c'è qualcosa che non va no no io ho detto fai benissimo parlando di 15 anni eh non di 64 15 anni quindi questo è vogliamo parlare di sentimenti e beh allora dobbiamo fare educazione sentimentale non sessuale educazione sessuale ce n'è anche troppa eh ce n'è ogni secondo se quella è eh la contraccezione finisco è sempre stata una cosa di cui non ce n'è fregato niente in Italia io tanti anni fa all'epoca del boom dell'AIDS mi sono permesso mi sono permesso di dire al ministero dell'istruzione possiamo mettere dei distributori preservativi nelle scuole medie e superiori risposta se lo scordi ho tentato con le ferrovie di stato si possono mettere eh distributori che sarebbe anche una popolazione più vasta possiamo mettere dei distributori nelle stazioni italiane se lo scordi questo era 1983-84 si moriva di AIDS come mosche non abbiamo mosso nulla per fortuna che poi la scienza ha trovato quattro pillole che ci allungano la vita ma questo è poi dopodiché la contraccezione ci interessa non certo per le malattie venere ma eventualmente per evitare qualche gravidanza non voluta questo qualcuno e anche su questo state attenti finisco c'è un altro comun sentire io ho ho avuto ragazze che mi hanno detto sono incinta qual è il problema faccio il figlio lo tira su mia mamma dov'è il problema mia mamma non vede l'ora io torno a fare la mia vita del padre sì c'è b già era b quando era incinta figurati dopo questo era uccell di bosco da qualche altra parte del mondo e questo è quindi c'è anche un cambiamento nella percezione della maternità e di che cosa voglia dire questo di chi debba occuparsene eccetera 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 perché fa parte di questa idea nuova per cui la famiglia è una sorta di grande immenso bancomat che serve anche a questo quindi c'è un bambino uh che bello uh che bello ma che facciamo una bella festa poi che non abbia papà non abbia la mamma ma è un dettaglio ormai no lo tirano sui genitori anche perché ormai tanti figli gli facciamo anche 55 anni quindi anche di questo fa parte di un certo egoismo di cui parlavate voi in tante vostre ricerche certo un bel egoismo mettere al mondo un figlio e sapere che non andrai al giorno della sua laurea a me sembrerebbe un grande egoismo no o dire la mamma è all'RSA francamente no sarebbe bene avere una mamma vi spetta che sia andata appena dal parrucchiere o no questo anche questo sta per essere scartato dalla nostra nuova società vi piace così a me no però siccome la maggioranza vuole questo il mondo è largo io mi ritiro in pace grazie grazie a Paolo Crepe per il suo punto di vista certo ci ha richiamato su questo concetto di identificazione con sessualità e mercato soprattutto per per i giovanissimi per gli adolescenti che è abbastanza inquietante e anche un altro aspetto abbiamo parlato di questa grande irruzione del porno online nell'immaginario sessuale degli italiani addirittura il porno entra nelle camere da letto anche di moglie e marito ma c'è anche il porno fai da te perché naturalmente i dispositivi digitali ci danno questo potere molto individuale molto forte addirittura di produrre autonomamente il porno quindi c'è un doppio risvolto e allora vengo a un'altra ricaduta di tutte queste trasformazioni chiamando in causa Manuela Parris ginecologa perché dal rapporto emerge anche che da una parte c'è una discreta conoscenza dei metodi contraccettivi profilattici pillola dall'altra però emerge anche una certa resistenza come se il ricorso alla contraccezione fosse un ostacolo a quel raggiungimento individuale del piacere che è il principale obiettivo allora qual è il punto di vista della ginecologa prego buongiorno a tutti sicuramente sì c'è una resistenza nei confronti della contraccezione ma è una resistenza che non c'è del tutto nuova se voi guardate se voi guardate questa slide avete già visto i dati perché vi sono già stati presentati tutto sommato noi sappiamo che un 15% di italiani utilizza la contraccezione e gli altri non la usano e ci sarà sicuramente un scusate comunque sta di fatto che sapevamo perfettamente che la maggior parte degli italiani non utilizzano contraccettivi e nel 60% dei casi non hanno usato niente o hanno usato il coito interrotto ritenendolo un contraccettivo tutto sommato del tutto simile a quelli che possono essere contraccettivi più sicuri i motivi nel non uso già vi sono stati parzialmente introdotti questo discorso del non lo avevo a disposizione è un discorso che ritorna costantemente in quasi tutte le indagini che sono state fatte anche in quelle che non sono state fatte in Italia ma sono state fatte in Italia e nel resto del mondo quindi anche indagini più allargate una delle motivazioni maggiori al non uso di contraccettivi è esattamente questo non ce l'avevo a disposizione che va benissimo per un discorso di condom ma non ce l'avevo a disposizione per un discorso di contraccettione ormonale combinata o di contraccettione ormonale long acting non torna più perché comunque sia sono contraccettivi che tu al bisogno ce li devi per forza avere ma l'altro dato che secondo me è particolarmente importante è questo 18% che vale sia di coloro che hanno deciso di correre il rischio rischio che io non sono così convinta che abbiano voluto correre mi sembra più una di quelle risposte poi mi darete modo di sapere se è così o no una di quelle risposte date tanto per dare è più logica e coerente invece la risposta rispetto a dire non pensavo di essere così tanto a rischio di gravidanza e questo ci torna anche in altre indagini quindi in realtà il rischio si corre perché uno non pensa di essere veramente a rischio oppure perché vuoi che proprio a me è capito oggi che rimango incinta senza usare niente e quindi non è un rischio che si corre volontariamente ma è un rischio che si corre più o meno volontariamente se poi andate avanti nelle successive colonne quello che a me non è piaciuto per niente è che il 22% dei maschi dicano che la persona con cui stavano ha detto che tutto sommato andava bene anche senza preservativi e ci sono il 6.9% scusate senza contraccettivi e mi viene automatico di pensare che possa essere l'utilizzo del condom ma probabilmente perché ne faccio una deviazione io personale e l'altro dato che secondo me è importante è questo 6% di donne che dichiara che il partner non ha voluto utilizzare il preservativo in questo caso evidentemente stiamo parlando di preservativi e non di contraccettivo in generale ultima cosa è il dato sulla contraccettione d'emergenza voi sapete che il numero di pezzi di contraccettivi di emergenza è aumentato notevolmente mentre noi vediamo una riduzione delle percentuali d'uso di contraccettione regolare vediamo un aumento di quella che è la contraccettione di emergenza e anche in questo caso vedete che un 8 e un 5% hanno detto vabbè tutto sommato se proprio ho corso un rischio faccio ricorso alla contraccettione d'emergenza e sto tranquillo e questo io non trovo che sia un atteggiamento del tutto sbagliato perché se non altro la contraccettione d'emergenza c'è meno male che c'è e meno male che qualcuno pensi di utilizzarla piuttosto che fare ricorso un'interruzione di gravidanza andando avanti il dato secondo me positivo è che nell'influenza delle scelte delle donne tutto sommato noi ginecologi continuiamo ad avere un'importanza notevole per cui il 53% delle donne ha detto che quello che le faceva fare una scelta contraccettiva era il medico specialista quello che ovviamente viene fuori che anche i genitori hanno una loro parte nel 20 e 15% dei casi a dare delle informazioni ma l'altro dato è che ovviamente soprattutto nella popolazione maschile i dati si reperiscono su internet è vero che queste nuove generazioni hanno un rapporto con la tecnologia completamente diverso come giustamente si diceva prima nel senso sono i cosiddetti nativi digitali quelli che sono nati direttamente con il telefonino in mano per capirci e quindi è normale che possano pensare che sia più facile reperire informazioni direttamente sul web piuttosto che andare a chiedere a un medico che magari rispetto a quello che è scritto sul web ne sa un briciolo di più l'ultima cosa rispetto alla conoscenza la conoscenza in realtà è la conoscenza dei metodi che sono sempre stati conosciuti ossia del condom e della pillola la pillola contraccettiva non vengono messe tutto sommato tutte le altre opzioni contraccettive che noi abbiamo a disposizione quasi come se non fossero conosciute in realtà non sono conosciute il fatto che i metodi naturali siano il terzo metodo più citato e quindi comunque sia e nei metodi naturali probabilmente viene inserito anche il coito interrotto perché penso che sia così la situazione tutto sommato con tutti i contraccettivi che noi abbiamo a disposizione avere citati principalmente la pillola il condom e i metodi naturali a me sembra piuttosto riduttivo è senz'altro vero che come si diceva prima è cambiata completamente la sessualità per cui è vero che ci sono delle pratiche che non richiedono contraccettione perché è evidente che la masturbazione reciproca non richiede contraccettione però è anche vero che i rapporti penetrativi non sono spariti completamente nell'universo di questi giovani ragazzi quindi pensare comunque a una protezione ma soprattutto a una protezione per la salute come giustamente si diceva il condom è anche protettivo nei confronti delle infezioni sessualmente trasmissibili quindi non è semplicemente un proteggere dalle gravidanze è anche un proteggere la donna e l'uomo da quelli che possono essere le malattie sessualmente trasmissibili e da ultimo vi volevo sottolineare quelli che sono le conoscenze riportate rispetto a tutti i vari tipi di contraccettivi che noi abbiamo a disposizione ora se voi guardate la linea del immagino che questo sia un pointer se voi guardate come ritengono affidabile il condom gli uomini e le donne voi vedete che c'è più di un 80% di casi in cui viene ritenuto affidabile per contro se noi guardiamo l'affidabilità della pillola nel caso delle donne viene detto sì dall'83% e 81% da parte dei maschi ma rispetto ai contraccettivi ai dispositivi intrauterini e ai sistemi intrauterini voi vedete come la conoscenza della loro sicurezza si riduca al 50% questo cosa significa significa che non è per niente conosciuta la sicurezza di un metodo che invece è altamente sicuro quindi un metodo che proteggerebbe sicuramente da una gravidanza indesiderata perché ha una sicurezza del 99% viene percepito come meno sicuro di un condom la cui sicurezza è intorno all'85% altro discorso rispetto alla contraccezione con estrogeni naturali anche qui è quasi come se non fosse conosciuta lo stesso vale per l'anello che ormai è in commercio da svariato tempo eppure ancora ci sono moltissimi ragazzi che non sanno neanche che possa esistere un anello contraccettivo e questo è sempre un problema di conoscenza ovviamente così come sulla pericolosità per la salute voi vedete che la maggior parte non sa quasi di nessuno di questi contraccettivi se sia o meno pericoloso per la salute in oltre il 40% dei casi quindi questa è una riflessione rispetto al fatto che veramente mancano le conoscenze allora forse noi non dovremmo fare educazione sessuale come giustamente si dice però dovremmo quantomeno educare questi ragazzi all'utilizzo di una contraccettione perché una contraccettione ci permette veramente di proteggerli dalla salute di proteggere la loro salute e come conclusione rispetto a quello che appunto è stato detto nel rapporto è senz'altro vero che si è ampliata la quantità di persone che non utilizzano i contraccettivi perché vi sono pratiche che fanno contraccettione di per sé però è senz'altro vero che questo abbassamento del livello questa minore attenzione nei confronti della necessità di un contraccettivo pone le donne a un maggior rischio per quanto riguarda la loro salute e ultima cosa probabilmente in questo scenario che sta cambiando moltissimo noi dovremmo come ginecologi spingere un pochino di più quelli che sono i metodi long acting quindi quelli che non hanno la necessità di essere assunti giornalmente come la contraccezione ormonale combinata che probabilmente ve lo dirà la dottoressa Rossi dopo viene percepita come una limitazione così come il condom viene percepito come una limitazione allora forse dovremmo pensare un po' di più a questo tipo di metodi che tutto sommato sono quello che si dice un pochino fit and forget quindi messi nel momento in cui il ginecologo te lo propone e te lo mette e poi dopo stare tranquilli per un certo periodo di tempo salvo il fatto che secondo me ovviamente come protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili il condom fa da padrone grazie 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 anche a manuela farris che ci ha ricordato poi quanto sia importante un'informazione un'educazione per il sesso sicuro naturalmente in particolar modo per la tutela della salute femminile gravidanze rischio di gravidanze indesiderate e naturalmente malattia trasmissione sessuale mi verrebbe anche da aggiungere che se il porno online il web diventa il principale influencer sui comportamenti sessuali certo da lì come dire un'informazione un modeling sui sistemi contraccettivi non arriva non fosse altro per esigenze come dire iconografiche o cinematografiche mettiamoli in questi termini ora la parola a Roberta Rossi che è presidente della Federazione Italiana di Sessologia Scientifica allora dottoressa Rossi abbiamo visto moltiplicazione delle pratiche in qualche modo sono stati infranti vecchie vecchi pudori vecchie reticenze ammette il 77% delle donne tra i 18 e i 40 anni oggi di poter separare il sesso dall'amore erano soltanto il 37% 20 anni fa forse ha ragione i crepè era così anche allora ma non lo si ammetteva però insomma c'è una grande trasformazione in corso e in particolare abbiamo visto degli impatti possibili in termini di sesso sicuro ma che succede più in generale anche sui comportamenti sulle relazioni se c'è un ruolo egemonico di monopolizzazione di questo tipo di immagine di comportamenti sessuali veicolati dal web e dal porno online prego allora buongiorno a tutti grazie anche per questo invito perché io credo che da questa indagine vengono messe in luce diversi aspetti mi occupo di sessologia ormai da tantissimi anni e quindi mi sono saltati agli occhi diciamo così degli aspetti molto interessanti su cui riflettere su cui ecco su alcune di queste vorrei riflettere qui con voi perché adesso alcune appunto diapositive sono già state visionate però le riprendo per comodità perché vorrei partire proprio da questo le pratiche sessuali più diffuse c'è inevitabilmente un ampliamento del repertorio sessuale questo da un certo punto di vista se lo vediamo all'interno della coppia può essere un qualcosa che permette alla coppia di variare anche nella sessualità e quindi non incorrere in quelle situazioni di noia di quotidianità che spesso e volentieri ci troviamo ad avere nei nostri studi clinici dall'altra parte non parlerei di grandissime trasgressioni in questi comportamenti in queste pratiche perché molte di queste fanno parte della vita comune di tantissime persone certamente il discorso del porno è stato messo maggiormente in evidenza e il il sadomaso ha avuto un grande ampliamento dopo libri di testo e film particolari che andavano in questa direzione però per il resto mi sembra veramente di essere all'interno di un repertorio sessuale abbastanza comune che forse prima di nuovo non veniva più di tanto raccontato e che oggi rientra più o meno nella quotidianità di tante persone però questo ampliamento che cosa comporta? comporta proprio un'attenzione maggiore al discorso del piacere sessuale cioè la sessualità non si fa più per volontà divina la sessualità non si fa più e soltanto per procreare la sessualità è un qualcosa che all'interno di una coppia che sia del momento che sia una coppia più stabile è mirata fondamentalmente al piacere per certi versi credo che questo aspetto ludico finalmente è entrato nella mentalità più comune e in parte credo che abbia a che fare quindi appunto il piacere che viene risaltato però insomma la complicità la troviamo al quarto posto quindi la passione la troviamo al terzo posto quindi sì è vero che il piacere risalta più di altri aspetti io credo che dovremo cominciare a pensare anche a un senso di romanticismo un po' diverso dal senso classico del romanticismo nel senso che le relazioni sono oggi fatte anche di tante altre cose che non sia l'amore per la vita questo lo vediamo e ce lo dirà anche successivamente l'avvocato quindi è possibile che sia cambiato proprio il concetto del romanticismo i ragazzi ce lo dicono questo non è più il romanticismo di una volta ma è comunque un sentimento allora forse dovremmo cambiare la nostra ottica essere meno romantici noi nel senso di legati a degli aspetti che fanno parte di un certo periodo di un certo periodo storico fondamentalmente e pensare che oggi entrano in campo in una relazione ripeto che sia di una giornata sola o che sia una relazione più lunga entrano in campo altri aspetti tra cui la sperimentazione questo l'abbiamo visto appunto nelle modalità anche diverse che a volte vanno a sostituire il rapporto canonico penetrativo a volte si aggiungono invece quindi c'è una voglia di sperimentare e questo io credo che tutto sommato abbia sia un segnale positivo e c'è soprattutto un appunto focalizzare l'attenzione sul piacere che cosa succede però e qui veniamo al discorso che accennava già prima e approfondiva prima la dottoressa Farris il piacere di per sé non prevede che io mi debba preoccupare di qualcosa tutte le campagne di informazione che sono state fatte nel tempo rispetto alla prevenzione di a suo tempo quando è stato l'AIDS tutte le campagne che hanno mirato la loro attenzione a previeni perché poi stai male perché poi la tua salute va non hanno funzionato cioè non in un senso terroristico perlomeno sono tutte indicazioni che legano un aspetto ludico la sessualità al rischio allo star male al avere andare incontro a qualche cosa che non è voluto in quel momento allora questo è il punto focale secondo me di fare una comunicazione anche sul discorso della contraccezione e a maggior ragione su l'aspetto delle infezioni sessualmente trasmesse perché i dati che abbiamo visto sono amplissimi di persone che non utilizzano la contraccezione meno che mai appunto il condom e questo ci deve far riflettere sulla possibilità di passare da un discorso di prevenzione a un discorso di promozione della salute sessuale cioè la sessualità deve essere portata in evidenza comunque come aspetto positivo il discorso del piacere già lo abbiamo già entrato nella mentalità delle persone quindi le persone fanno sesso cercano una sessualità per raggiungere fondamentalmente il piacere egoistico sì forse però credo che rientri in tema di sessualità e il piacere ma dobbiamo lavorare sulla promozione dei comportamenti che vadano a in qualche modo salvaguardare la salute sessuale più in generale quindi le campagne in qualche maniera devono lavorare proprio su non soltanto informare ma fornire dei momenti anche di riflessione o nelle indicazioni anche che vengono date attraverso le pubblicità attraverso vari appunto vari metodi la possibilità di fornire degli spunti di riflessione alle persone così come dovremmo farlo con i ragazzi non basta andare nelle scuole e dire c'è questo questo e questo sono informazioni che rimangono a livello cognitivo tutte le informazioni devono passare ad un altro livello che è un livello un pochino più profondo un livello più emotivo è un livello dove dobbiamo discutere dei valori dove dobbiamo discutere del che qual è il mio oggi si usa molto sentiment rispetto a quella situazione che viene proposta a quel contraccettivo a quella idea di protezione passando appunto proprio a promuovere promuovere qualcosa noi dobbiamo lavorare sull'aspetto positivo della sessualità altrimenti questa disgiunzione tra piacere sessualità intesa come piacere e il fatto che io in un momento di piacere devo pensare a proteggermi da qualcosa non passerà mai cioè sarà sempre un qualcosa che le persone tenderanno a mantenere lontane da loro non è un caso che in varie appunto indagini che sono state fatte anche sulla diffusione della pillola noi sappiamo che c'è proprio un problema far passare questa informazione sulla pillola un po' perché le persone le donne in modo particolare sono terrorizzate dall'idea di chissà che cosa oggi sappiamo che questo non è più così quindi insomma si può prendere la pillola tranquillamente rimanendo in salute diciamo così non ci sono più i rischi che probabilmente si associavano una volta a questo discorso della pillola così come il condom il condom molte persone ne parlano molti ragazzi anche ma anche nei millennials abbiamo visto ne parlano come se fosse una seccatura un qualcosa che limita un qualcosa che si inserisce all'interno di una relazione dove in quel momento stiamo giocando stiamo pensando a divertirci ma figurati se dobbiamo pensare a quello che succederà dopo cioè il qui e ora purtroppo in questi casi è molto più efficace ed importante di quello che è un progetto invece anche di un pensiero di quelle che appunto potrebbero essere le conseguenze a volte disagevoli altre volte no di un qualcosa a cui non ho pensato allora in questo senso dobbiamo lavorare con le persone perché come ci viene riportato appunto anche in questi in questi casi perché l'idea della contraccezione non sia un'idea soltanto di uno all'interno della coppia cioè è importante che la coppia si prenda carico di questo aspetto della contraccezione in che modo parlandone considerate che molti di questi dati fanno riferimento a persone che vivono in coppia adesso qui non è riportato però fanno riferimento a persone che vivono in coppia quindi non sono dati riferiti alla relazione un incontro e via quindi se parliamo di coppia parliamo di una coppia stabile che comunque ha voglia di viversi la sessualità voglia di sperimentare modalità diverse è una coppia che va in qualche maniera aiutata a pensare che quel momento è un momento che può essere preservato nel tempo proprio riallacciandolo appunto al discorso del piacere e sulla coppia va in qualche modo lavorato quando noi andiamo nelle scuole con i ragazzi facciamo sempre riferimento al discorso della relazione dell'altro da sé perché è soltanto facendo appunto conto su questa forza che la coppia ha comunque nel decidere insieme delle cose per sé e per il proprio futuro che ovviamente possiamo cambiare un po' le cose dal punto di vista anche della promozione della salute sessuale quindi io chiuderei dicendo che la fotografia è abbastanza per quello che riguarda il mio lavoro cioè la sento molto vicina a quella che è l'esperienza nel senso che c'è questo aspetto di voler sperimentare di uscire dalle regole canoniche della sessualità e che questo sempre di più in qualche modo vede una coppia anche un pochino più paritaria diciamo nel senso che anche questa cosa del porno che tutti quanti siamo un po' scandalizzati diciamo le donne il 77% delle donne guarda il porno beh insomma vediamolo anche da un altro punto di vista considerate che il porno di oggi spesso e volentieri è fatto anche da donne vorrei dare questa piccola indicazione cioè è un porno leggermente diverso dalla l'idea iconografica che abbiamo del porno è leggermente diverso è un porno che ha a che fare anche con delle storie quindi non è un porno avulso messo lì soltanto come aspetto genitale quindi un porno che si avvicina più all'erotico mi verrebbe da dire piuttosto che al porno e il fatto che le donne siano curiose mi viene da dire perché no nel senso è una curiosità che può essere sicuramente come dire sostenuta e poi non credo che sia in assoluto il punto di riferimento di quello che poi accadrà successivamente perché penso sempre che le persone abbiano la capacità poi di discernere rispetto ad alcune cose e quindi la possibilità poi di distaccarsi dal modello to cure del porno ma ampliando appunto il repertorio sessuale secondo quelle che sono i desideri e a quel punto la complicità della coppia non dimenticando però e questo io ritengo che sia un lavoro ancora da fare che è importante il discorso della promozione della salute sessuale grazie grazie anche a Roberta Rossi come dicevo all'inizio abbiamo voluto mettere qui intorno al tavolo persone con competenze diverse con approcci diversi perché per definizione quello della sessualità è un tema che richiama un approccio multidisciplinare allora abbiamo ascoltato lo psichiatra abbiamo ascoltato la ginecologa abbiamo ascoltato la sessuologa e adesso la parola Esther Viola avvocato matrimonialista e scrittrice le passo la parola con quindi l'idea di allargare il ragionamento anche all'impatto di tutte queste trasformazioni sulla vita di relazione delle persone soprattutto però richiamando un dato perché dal rapporto emerge però che interrogati sul livello di soddisfazione per la propria vita sessuale gli italiani di 18-40 anni dicono che sono più soddisfatti della loro vita sessuale che non della loro vita in generale complessiva questo pure è un'informazione che ci accende una qualche lampadina prego questo dice abbastanza sulla vita fuori dalla dalla camera mi tocca la parte più triste quella delle conseguenze le conseguenze non soltanto in tribunale sezione famiglia ma da un altro osservatorio bizzarro ma valido secondo me ormai è un buon campione dopo il primo romanzo ho avuto una discreta fortuna anche come tenutaria di posto del cuore ormai sono anni che ricevo 3, 4, 5, 6 lettere al giorno e insomma immaginiamoceli come due momenti patologici la fine della relazione in ufficio stiamo parlando di persone più o meno di 40 anni e il momento di disperazione di una ragazza dai 20 ai 25 anni che con la sinistra premessa io sono anche in terapia ma stasera mi sento male ti scrivo mi racconta come vanno le cose quindi cosa so che non ci siamo mai lasciati così tanto che non è stato mai così facile trovare un partner sessuale adesso comodamente dal divano prima dovevi almeno fare la fatica di qualche messaggio delle telefonate uscita a cena adesso no bastano 5 minuti di Tinder e non siamo mai stati così soli la conta delle teste l'ha fatta Rebecca Traister il libro è All the single ladies 2016-17 è una giornalista le ragazze sole è questo è questo che emerge hanno superato le altre quali sono i dati rilevanti rilevanti secondo me in questo rapporto un 30% che non esisteva prima di questi ultimi vent'anni scambia immagini pornografiche un 38% pratica sexting il terzo dato rilevante è sempre meno sesso tra i ventenni quindi sempre più sesso in certe forme sempre meno sesso due dati apparentemente scollati non lo sono cominciamo dal tribunale cominciamo dal codice civile anzi l'affitto delle coppie si paga in fedetta articolo 143 del codice civile i due firmatari nel giorno più bello della loro vita si promettono fedetta se cercate la definizione di fedetta da qualche parte nel codice civile il codice civile intelligente non la dà non esiste una definizione di fedetta non esiste una definizione di fedetta per la cassazione non è quanto mi tradisci tu ma quanto mi sento offesa io se uno dei due firmatari infrange il patto luminoso di futuro felice paga a debito ora lasciando da parte il lungo discorso sull'assegno esiste non esiste che cosa succederà il divorzio non è un bancomat la debito sostituisce il concetto molto meno elegante di colpa del codice del 1975 semplicemente come ho detto prima chi rovina il patto paga in un modo o in un altro e la buona volontà la redenzione è meglio misurarla in soldi ecco cosa insegna il tribunale nelle cause di divorzio a differenza di quello che succedeva 15 anni fa in cui si chiamava un investigatore adesso il cliente fa due cose la prima è nominarmi una delle tre Tinder Facebook e Whatsapp nei primi cinque minuti di conversazione e la seconda apparentemente fantastica mi porta il fascicolo della produzione documentale cioè le prove del tradimento qualche volta anche tutto contento del proprio stesso tradimento una serie di chat immagini porno tutto materiale sottratto all'altra parte ecco fosse stato il 2001 ci sarebbe stato il divieto di produrre in giudizio articolo 616 del codice penale corrispondenza tutto quel materiale il vostro sexting con l'amante non può entrare in un processo pare però che Zuckerberg abbia cambiato anche la legislazione perché tutto quel materiale adesso entra nei processi c'è una prima ordinanza del tribunale di Torino nel 2015 che sostiene che il diritto di difesa supera quello alla privacy cioè se non hai altro modo di dimostrare che sei stato tradito quel materiale entra nel processo ma non è questo di cui parliamo sexting relazioni online tra persone che non si sono neppure mai viste senza come dice la Cassazione il congresso carnale eccolo il problema dal mio punto di vista è tradimento oppure no considerando che la fedeltà è quello che vi ho detto prima cioè quanto mi sento quanto mi sento offesa e non quanto mi tradisci tu è tradimento oppure no ecco mi sembra una bella questione da 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 congresso una domenica mattina ma non lo è sono disperati in Cassazione e il punto della disperazione si misura in Cassazione dalle sentenze delle sezioni che contrastano allora 2013 la Cassazione sosteneva che no mentale non vale l'amore platonico non è tradimento se l'altro coniuge non è in grado di provare in cosa consista la presunta relazione certo questi sono virgolettati la debito non può certo derivare dalla mera infatuazione di un altro soggetto con mera infatuazione quindi il nostro sexting le nostre abitudini sessuali erano nel 2013 mera infatuazione l'altro ieri 2018 maggio arriva un'ordinanza abbastanza significativa pure fantasiosa la 9384 2018 la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet stiamo parlando di quel 30% è circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione ovvero posso chiedere un addebito soltanto se tu non sei iscritto a tinder o altrove ma se navighi ecco il termine della cassazione cioè se fai un giro su internet nessun avvocato matrimonialista sognerebbe mai di mettere questo precedente in una causa chiedendolo a debito ma è per somma di decisioni strane che si costruisce la giurisprudenza ecco questo è il nostro primo dato questi amori platonici questo sexting queste relazioni che adesso sono il 30% che non esisteva 30 anni fa da 0 a 30 ecco questo è tradimento questo è abbastanza per portarvi in tribunale questo è abbastanza per decretare la fine di un'unione matrimoniale con a debito l'altro dato apparentemente scollato di cui si parlava è il meno sesso tra i 20 anni molto plausibile la conclusione del professor Crepe cioè se comincio a 13 anni a 20 sarò stanca non è abbastanza però non è abbastanza e non è sufficiente ecco se voi sfogliaste le raccolte della della posta del cuore di Natalia Aspesi trovereste trovereste la raccolta di posta del cuore i volumi dell'Aspesi trovereste una lettera tipo una lettera tipo è quella è la super classica il tradimento amo mia moglie amo mio marito però ecco e su quel però l'Aspesi ha costruito letteratura degli ultimi 20 anni la mia lettera tipo da 4 anni a questa parte è ci scriviamo sempre non ci vediamo mai lo amo sono disperata l'ho detto anche al mio medico qualcosa non funziona da quanto dura mesi anni ora è abbastanza facile forse insomma è logico dire che è uno stato patologico è immaginazione e quando ogni tanto mi chiedono in qualche interesse è cambiato l'amore ecco la domandissima sì e no è la risposta non è cambiato perché sono 2500 anni che è lo stesso sono due persone che stanno insieme contro ogni previsione ma dire che non è cambiato qualcosa insomma è un rischio che non me la sento di correre ma cosa è cambiato? siamo tornati all'ottocento di Jane Austen cioè ci si scrive la relazione è epistolare o è qualcosa di è qualcosa di ancora diverso il Wall Street Journal la settimana scorsa ha riportato un un articolo sondaggio secondo cui per tutti i ventenni oggi una relazione senza vedersi è una relazione normale ecco questo forse è un dato su cui interrogarsi è sufficiente la stanchezza cioè se ho cominciato le mie pratiche sessuali a 13 anni a 20 sono stanca e quindi sono disinteressata all'argomento oppure c'è qualcosa di diverso ecco no non insomma se vi state chiedendo se sto a rispondere no la la risposta è ovviamente no e tuttavia le relazioni platoniche sono entrate nella nella giurisprudenza ormai c'è qualcosa di insano che sta succedendo tra i ventenni e credo che abbia a che fare anche con il lasciarsi all'epoca dell'internet ecco questa è un'altra lettera tipo che mi capita lasciarsi nel 1997 in cosa consisteva lutti infiniti si mordevano le pareti si poteva cambiare il numero di telefono almeno avevi la pace mentale del pensiero non lo vedo più per un tot di tempo un diciottenne che oggi insomma affronta una separazione rischia di trovare una settimana dopo l'ex taggato con la nuova relazione quindi l'esibizione di felicità online della nuova coppia quindi è costretto a dei tempi di recupero rapidissimi tempi di recupero che si devono riflettere anche sul sul suo account devo manifestare faccio vedere che sto bene che ho la stessa dita di prima quindi forse le pareti le mordo come nel 1997 un po' più forte sono costretta a rimettermi in piedi più rapidamente vantaggio svantaggio non lo sappiamo sappiamo soltanto che a vent'anni ecco se forse dovessi scegliere il dato più rilevante di questo studio hanno smesso di interessarsi sexting lo lasciano ai disperati di 40 anni che poi finiscono in tribunale a vent'anni hanno smesso ecco grazie a tutti bene grazie anche per l'intervento a Esther Viola che qualora ce ne fosse bisogno ci fa capire ci dice come la dimensione la sfera intima la dimensione sessuale poi ha impatti su tanti aspetti molto più ampi relazionali fino addirittura a giuridici e un po' questo è stato poi il motivo che ci ha spinto a realizzare questo rapporto insieme a Bayer Italia che ringrazio ancora per avercene dato le possibilità perché naturalmente ricercare i cambiamenti nella sfera intima delle persone nei comportamenti sessuali ci dice molto più in generale qualcosa della società più in generale e un aspetto lo richiamava anche Esther Viola è sicuramente quello della polarizzazione che è una cifra distintiva dei nostri tempi e noi come ricercatori lo riscontriamo in tanti ambiti del vivere comune anche in questa dimensione c'è una polarizzazione rispetto a vent'anni fa chi fa sesso ne fa di più più vario più frequente con più partner aumentano però quelli che non fanno sesso e allora lì è interessante interrogarci sulle ragioni quindi anche da questo potentista c'è la polarizzazione l'altro ovviamente aspetto dirompente come anche constatiamo in tanti ambiti della vita sociale economica del paese è l'irruzione fortissima delle tecnologie digitali Esther Viola lo ricordava si portano anche in tribunale gli esiti dell'utilizzo delle tecnologie digitali oppure ci spezza il cuore vedere dopo la fine di una relazione l'ex partner con qualcun altro magari lo vediamo su un social fotografato con un'immagine digitale quindi anche da questo punto di vista la implementazione delle tecnologie digitali nella nostra vita che impatta su una pluralità di aspetti e dimensioni infinita ecco ovviamente una ricaduta anche sulla vita sessuale dal porno dal porno fai da te fino ai tanti aspetti della vita di relazione credo che con questo rapporto noi abbiamo dato un contributo a fare un passo avanti in termini di conoscenza e riflessione su come cambiano i costumi sessuali degli italiani certo con tutte le ricadute molto importanti anche in termini di contraccezione e in particolare salute femminile che è una dimensione quella del sesso sicuro che non deve mai essere dimenticata molto interessante il discorso che veniva fatto da sul primato del piacere se c'è il primato del piacere nella ricerca nella vita sessuale difficilmente prenderò mai in considerazione i rischi ai quali mi espongo che è un aspetto senz'altro fondamentale dicevo credo che abbiamo dato un contributo di riflessione non ci sono conclusioni le conclusioni sono sicuramente aperte magari ci sarà un prossimo appuntamento fra un anno con un secondo rapporto sui comportamenti sessuali degli italiani grazie a tutti grazie agli ospiti che ci hanno aiutato la riflessione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti